Queste le parole di Michele Paesi, 26esimo Presidente dell'Assemblea regionale eletto stamattina. Una grande emozione, ma soprattutto un grande orgoglio presiedere l'Assemblea dei Sardi, il Parlamento dei Sardi. Come ho detto nel mio brevissimo saluto, mai avrei pensato giovedì scorso di ricevere un incarico di così alto prestigio. Mi sono affidato al Signore, a Dio perché mi assiste in questo compito che cercherò di svolgerlo nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, delle leggi e delle prerogative di tutti quanti i consiglieri. Un grande significato politico e storico. Abbiamo scritto, stiamo scrivendo e scriveremo una pagina importante della storia autonomistica della Sardegna. Non solo un Presidente espresso per la prima volta della Lega, ma un governatore sardo e sardista. Quindi una pagina molto importante per l'autonomismo della Sardegna.